Buone notizie per l'economia nazionale, in particolare quella piemontese. Il mercato delle auto continua a crescere anche ad agosto, ma le aziende automobilistiche chiedono allo Stato più attenzione. Due guardie ecologiche e volontari hanno scoperto una struttura di cemento abusiva vicino a dove sostano le roulotte e i camper. Durante l'ispezione i volontari sono stati minacciati da alcuni presenti alla Pellerina. Sul posto è giunta la Polizia Municipale che ha svolto gli accertamenti del caso. Sempre più ragazzi si iscrivono al Politecnico di Torino, record quest'anno di iscrizione e test d'ingresso. Gli studenti sono anche più preparati, servono però più spazi e più personale. Nuovo impegno per i Lions torinesi a favore dei bambini. Si interviene sia per i beni di prima necessità, sia con corsi di formazione per le famiglie più risagiate. Il mercato italiano dell'auto continua a crescere anche ad agosto, ma rallenta. Le immatricolazioni, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state quasi 60.000, in crescita del 10,65% rispetto allo stesso mese 2014. Negli otto mesi del 2015 sono state vendute un milione di auto, il 15% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso. Anche questa volta famiglio del mercato Fiat Chrysler, con 16.700 consegne nell'ultimo mese, il 12,67% in più dello stesso mese 2014. In aumento le vendite di tutti i brand, Jeep, Renegade, Alfa Romeo, Lancia e Fiat. Nel mese sono ben 5 i modelli del gruppo tra le top 10. Alle spalle della Panda rigrallunga la più venduta, anche ad agosto, la Punto, la Y500L e 500. Il centro studi Promotor stima 1.560.000 alle immatricolazioni del 2015, il 14,7% in più del 2014, ma il 37,4% in meno rispetto ai livelli prima della crisi. La ripresa c'è, ma rispetto alla prima parte dell'anno si nota un rallentamento, soprattutto se si considera che nel mese appena chiuso c'è stato un giorno lavorativo in più rispetto allo stesso mese 2014. Agosto è però un mese atipico, spiega il presidente Gian Primo Quagliano. Occorrerebbe che il governo assumesse iniziative per favorire la ripresa, afferma, e ciò a vantaggio non solo dell'economia e dell'occupazione, ma anche della sicurezza della circolazione stradale e dell'ambiente. Dal palazzo non giunge però alcun segnale. Un tema sul quale tornano tutti gli operatori del settore. L'URRAI, l'associazione delle case automobilistiche estere, chiede al governo un rapido confronto per finalizzare le possibili azioni di ripresa del settore automotive. Per Federauto resta un moderato ottimismo, ma per famiglie e imprese la priorità è la fiscalità sull'auto. E intanto arriva un altro nodo a General Motorale Avance di Sergio Marchionne per una fusione con Fiat Chrysler. Il nostro management e il consiglio di amministrazione, afferma la Casa di Detroit in una nota riportata dal Detroit Free Press, lavorano sempre per massimizzare il valore per gli azionisti. Dopo aver completato un'attenta revisione su una possibile fusione, abbiamo concluso che l'esecutivo del nostro piano è la strada migliore per creare valore per gli azionisti. In noi l'ennesimo, ma la Casa Americana fa qualcosa in più, rilancia sul fronte degli azionisti e afferma che il suo piano è la strada migliore per creare valore. La FIOMA intanto commenta Il paese non fa sistema e Marchionne va avanti da solo e trova porte chiuse. È abusiva la struttura che è stata scoperta al parco della Pellerina nella zona adibita al parcheggio delle roulotte dei camper dei giostrai. L'abuso edilizio è stato notato da due guardie ecologiche volontarie della città metropolitana mentre passava nel piazzale adiacente al parco. La Pellerina è da sempre il centro principale di ritrovo dei giostrai che sostano abitualmente a Torino. Ogni anno il parco ospita una parca che attrae sempre molte famiglie. La zona, ispezionata dai due volontari, è adiacente Corso Regina Margherita. Sul posto è stata trovata una struttura di cemento realizzata addirittura con l'aiuto di una betoniera. Durante gli accertamenti le guardie sono state avvicinate e minacciate da alcuni presenti. Immediato l'intervento della Polizia Municipale, che è giunta sul posto, ha riportato l'ordine. Gli agenti stanno svolgendo le opportune verifiche per rilevare le violazioni commesse. Sulla vicenda si è espresso l'assessore comunale all'ambiente Enzo Lavolta che ha elogiato il lavoro delle guardie ecologiche, poiché grazie a loro è stato possibile accertare una grave violazione in un'area verde importante per la città come il Parco della Pellerina. Mi auguro che si possa tempestivamente procedere a senzionare i responsabili ed alla demolizione di quanto è stato costruito abusivamente. In un momento che ancora vive le difficoltà economiche e la carenza di lavoro, il numero degli aspiranti ingegneri continua a crescere. Al Politecnico di Torino si parla di un più 5% rispetto allo scorso anno nelle immatricolazioni, passando da 8.000 preiscritti del 2014-2015 agli oltre 8.400 di quest'anno. A questi si aggiungono più di 2.000 pre-immatricolati dell'area dell'architettura, superando per la prima volta i 10.000 ragazzi iscritti ai test del Politecnico. Per ingegneri, il numero dei pre-immatricolati provenienti da regioni italiane diverse dal Piemonte oppure dall'estero continua a essere superiore rispetto a quello dei residenti in Piemonte. Sono il 60% e provengono dalle regioni storicamente più legate all'Ateneo, come Puglia, Sicilia, Sardegna, Liguria e Calabria. Più del 25% ha conseguito il diploma di maturità, con una votazione di 100 centesimi oppure con la Lode, con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. Per i corsi di ingegneri hanno già sostenuto il test nelle sessioni anticipate 6.410 studenti. Circa il 35% ha raggiunto il 50% del punteggio complessivo del test e quasi il 10% ha conseguito il 70% del punteggio, soglie che hanno consentito a più di 1.500 ragazzi di immatricolarsi. Per l'area dell'architettura, boom per il corso di design e comunicazione visiva, con più di 1.000 pre-immatricolati. Fra i corsi di laurea che superano le 500 preferenze, si evidenziano ingegneria biomedica, ingegneria informatica, design e comunicazione visiva, ingegneria meccanica, gestionale e aerospaziale. E' ormai acquisito che uno dei principali fattori di competitività di un territorio e di un paese è la capacità degli Atenei di attrarre studenti e ricercatori di talento, ha commentato Marco Gilli, che è il rettore del Politecnico di Torino. Il numero complessivo di pre-immatricolazioni mai raggiunto prima, l'elevate percentuale di studenti provenienti da altre regioni italiane oppure da sedi estere, il sensibile miglioramento degli esiti dei test di ammissione, sono indicatori importanti per valutare la qualità della nostra scuola e le politiche sull'alta formazione che stiamo attuando, correntemente con il nostro piano strategico. Tutto questo però pone un problema. Per rispondere alla crescente richiesta di alta formazione che proviene dal sistema socio-economico, sono necessari spazi supplementari da destinarsi ad aule, laboratori e risorse umane aggiuntive. Nei prossimi anni, dice ancora il rettore, senza lo sblocco del turnover e l'attuazione del progetto di potenziamento delle sedi universitarie che stiamo sviluppando con la città di Torino e con la regione Piemonte e che auspicabilmente avrà anche il sostegno del Ministero, il Politecnico ai fini di garantire l'alta qualità della propria offerta formativa si vedrà costretto, suo malgrado, a limitare ulteriormente il numero di ingressi. Il Lions Club International, la più grande associazione di servizio del mondo, ha indetto dal 30 agosto al 5 settembre la settimana mondiale per la dignità dei bambini. A questo proposito, un gruppo di 20 Club Lions di Torino e provincia, già attivo da tre anni con un progetto Bambini Nuovi Poveri, che ha come fine quello di supportare famiglie in stato di disagio con bambini in tenera età per mezzo della donazione di beni di prima necessità, annuncia due importanti accordi di partnership con la Fondazione CRT e con il Comune di Torino. Il primo coinvolge Club Lions appunto e l'associazione Ulaop Ollus, nel progetto Banco del Sorriso, nato per aiutare a risolvere le difficoltà materiali delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, cercando di ridurre il disagio e promuovendo il valore della condivisione e dell'aiuto reciproco. Proprio in settimana sarà infatti consegnata da Lions una prima tranche di oltre 20.000 pannolini, che saranno poi distribuiti a chi ne ha più bisogno. Il secondo progetto, in collaborazione con il Comune, ha invece come obiettivo la progressiva e ulteriore diminuzione del numero di minori inseriti in strutture residenziali, in seguito all'allontanamento delle famiglie d'origine. Attraverso echipe multidisciplinare di professionisti dei diversi servizi del territorio e del privato sociale, le famiglie vengono guidate in percorsi creati per migliorare la situazione generale e soprattutto il rapporto con i minori, rendendo così possibile la sospensione dei provvedimenti di allontanamento da parte delle autorità. Il ruolo del Lions è quello di supportare e risolvere con la snellezza operativa che ricontradistingue alcune situazioni critiche delle famiglie e dei minori coinvolti nel progetto, contribuendo così in modo significativo a creare un clima di maggior sollievo nell'immediato e fiducia nel futuro. Nel 2012 era ormai una certezza che il mercato di piazza Bengasi sarebbe stato spostato temporaneamente in via Onorato Vigliani. A distanza di tre anni è una certezza la notizia che prima del 2017 gli ambulanti non torneranno nella zona dove quel mercato è nato e dove ora sono in fase di realizzazione i lavori per il collegamento della linea 1 della metropolitana che permetterà di raggiungere piazza Bengasi dall'ingotto. È un cantiere a cielo aperto quello che si presenta quotidianamente a chi vive nelle vicinanze o a chi passa da quelle parti. Per poter andare o venire verso Moncalieri Unichilino è necessario percorrere una tortuosa ed improvvisata rotonda al cui centro svettano le barriere blu tipiche degli intoppi stradali temporanei. Il rumore delle macchine è assordante e percorrendo il perimetro del cantiere la sensazione è quella di essere nel bel mezzo di un terremoto. Inoltre i lavori creano non pochi disagi tanto alla circolazione quanto ai pedoni. La trasformazione della piazza, spiegava all'epoca Marco Novello, presidente della decima circoscrizione, rappresenterà un'opportunità di valorizzazione del quartiere. Gli ambulanti che hanno traslocato dall'altra parte del cavalcavia di via Vigliani sembrano essersi messi ormai il cuore in pace. La zona in cui si trovano ora ha creato non pochi problemi quotidiani ma comunque i commercianti non si scoraggiano. Il lavoro continua anche se, come spiega Dennis Andreolli, presidente della commissione di mercato, la clientela si è drasticamente ridotta. In circa tre anni c'è stato un calo del 50% che in alcuni casi ha toccato il 70%. Il motivo è ovvio. Via Vigliani è sprovvista di un servizio di mezzi pubblici adeguato che consentano ai cittadini di raggiungere le bancarelle. In queste circostanze la crisi economica non è annoverata come il solito motivo verso cui si punta l'indice. Anzi, come afferma ancora Andreolli, molte attività commerciali hanno aperto proprio grazie all'arrivo del mercato. Esiste inoltre un grosso problema legato invece alla disposizione dell'area e dalla situazione che si crea in caso di brutto tempo. Il mercato è in pendenza. Ciò comporta la formazione di un vero e proprio lago che rende la zona un acquitrino. I problemi che ne conseguono sono immaginabili. La questione è giunta più volte a Palazzo Civico. Gli enti competenti hanno fatto sapere che l'obiettivo è cercare di far tornare il mercato in Piazza Bengasi il prima possibile, cioè quando saranno ultimati i lavori per la metro. Nel frattempo questa situazione di stallo non comporta soltanto problemi logistici o di collegamento. Gli ambulanti, a causa degli elevati costi del calo di utenza, si ritrovano con l'acqua alla gola. Nonostante abbia in più volte sollevato questa delicata questione, il comune, dicono gli ambulanti, non ha mantenuto le promesse legate agli sgravi fiscali. I mercanti, per ora, comunque resistono. Cosa state vendendo di più oggi? Quasi niente. La giornata è appena iniziata. Che previsioni di vendita avete? Speriamo buone. Visto che oggi non fa tanto caldo. Non dovreste essere in Piazza Bengasi voi? Certo. Vabbè, adesso fra due anni dovremmo ritornare. Fra due anni? Sì. Ma così dicono. Perché qui è un disastro, sto mercato qui. Ma mai? Cosa è che non va? Ma mai mancano i parcheggi, la gente che veniva da fuori, Moncaglieri, Nichelino, Candiolo, Vinovo, devono prendere due pulma e quindi si lavora poco. Abbiamo perso al minimo il 30% da quando eravamo in Piazza Bengasi. E speriamo di tornare più presto. Speriamo intanto che l'economia si riprenda. Perché? Quella è la base. Se poi l'economia non si riprende possiamo andare in Piazza Bengasi dove vogliamo. Il lavoro sarà sempre così. Dicono che il Palazzo Civico si sia mosso in qualche modo. Che non è pensato? Ma speriamo che si sia mosso di stessa. Che si muova e al più presto potremmo tornare in Piazza Bengasi. Cerrando la parola sui lavori? Non lo so. Non ci metto la mano. Sicuramente. Sì, abbiamo dei grossi disagi. Perché paghiamo tanto di plateatico, di mondizia. Abbiamo dei disagi. Difatti c'è il 30-40% che non riesce a pagare plateatico e mondizia. Avete delle tasse di gestione alte? Molto, molto, molto. Ma le avevamo anche da là. Però dato che questo è un provvisorio non avremmo dovuto pagare niente. Invece ci fanno adesso il quanto paghiamo già di mondizia. Prima avevamo detto metà, adesso il 60%. E di mondizia siamo già quasi 4,8-4,7 all'anno. Poi c'è 2,5 di plateatico e siamo a 7.000. È il comune che decide, mica noi. Poi non è giusto perché tutti i mercati provvisori non hanno mai pagato le spese di mondizia plateatico. Perché dobbiamo pagarle noi? I clienti vogliono che torniamo di là, tutti. Che abita qua vicino perché dice che stiamo qua. Poi comunque anche il mercato quando piove qua ci sono delle pozzanghe enormi e la gente non viene anche perché se piove un po'. Oramai rimane così. L'ha fatto male subito, subito, subito. Non è rimane così. Le buca non sono venute dopo, subito, appena fatte. Non gli ha dato l'avvallamento che si deve dare un mercato. Invece di fare il pavimento in questa maniera l'hanno fatto così. E l'acqua si ferma sempre qua. Ci sono dei posti dove c'è tanta acqua così quando piove. e quindi la gente quando piove non viene volentieri. I clienti cosa ne pensano? Che andiamo proprio male. Se ciascuno facesse la sua parte si andrebbe meglio. Invece no. Se ci mettono un po' di buona volontà ma bisogna averla. Come sta andando oggi? Poca roba. E' questo periodo è sempre questo. Fino a settembre. E qua piace bene. Torniamo lì meglio di qua. Sì, fra due anni torniamo di là però speriamo di sì. Esisterete da qua due anni? Eh, certo. E' già adesso tre anni o quattro anni. Adesso tre anni di qua. Per il cliente non va bene lo stesso. Tanto vicino, non è lontano. Basta c'è l'altro mercato davanti il pullman lì vicino. Magari 2007 è meglio di prima. Buone notizie per l'economia nazionale e in particolare quella piemontese. Il mercato delle auto continua a crescere anche ad agosto. ma le aziende automobilistiche chiedono allo Stato più attenzione. Due guardie ecologiche volontari hanno scoperto una struttura di cemento abusiva vicino a dove sostano le roulotte e i camper. Durante l'ispezione i volontari sono stati minacciati da alcuni presenti alla Pellerina. Sul posto è giunta la Polizia Municipale che ha svolto gli accertamenti del caso. Sempre più ragazzi si iscrivono al Politecnico di Torino. Record quest'anno di iscrizione ai test d'ingresso. Gli studenti sono anche più preparati servono però più spazi e più personale. Nuovo impegno per i Lions torinesi a favore dei bambini. Si interviene sia per i beni di prima necessità sia con corsi di formazione per le famiglie più risagiate. Grazie per la visione!